Questa notte a Castellamare di Stabia, Pompei, nelle province di Brescia e di Pisa, i militari della compagnia carabinieri di Castellamare di Stabia hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 18 indagati che avrebbero iniziati a vario titolo dei reati di associazione armata di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto illegale di arma clandestina aggravato dal metodo mafioso, rapina aggravata dal metodo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accesso in debito a dispositivi doni alla comunicazione da parte dei soggetti defunti. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radioimmobile della compagnia di Castellamare di Stabia e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno avuto origine nel giugno del 2020 all'indomani della chiusura di una prima tranche di investigazioni che aveva consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di 16 indagati, a accusati a vario titolo di aver dato vita ad un gruppo criminale, originariamente incardinato dal clan Cesarano, che sfruttando la momentanea assenza di una vera e propria leadership all'interno del suo talizio, si sarebbe organizzato allo scopo di assoggettare al suo controllo parte del territorio della città di Castellamare di Stabia, ponendo in essere una serie di estorsioni in danno di commercianti ed attività imprenditoriali della zona e parallelamente avviando una foria di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La cittata indagina aveva condotto all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dell'arma nell'ottobre 2021 ed anche alla condanna di alcuni imputati che nel frattempo hanno definito la propria posizione con il rito abbreviato. Il proseguo delle attività investigative è stato invece indirizzato agli aspetti associativi ed ha permesso di raccogliere gravi indizi circa l'attuale operatività del clan Cesarano, quale associazione armata di tipo mafioso avente per scopo la commissione dei delitti di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, finalizzata l'acquisizione del controllo delle attività illecite e lecite di Castellamare di Stabia, di Pompei e delle zone limitrofe. Grazie a tutti.